Un giorno il mondo conoscerà il mio nome, sono le rivelazioni che una ex fidanzata del copilota della German Wings, Andreas Lubitz, racconta alla stampa tedesca. Il sogno infranto di diventare comandante dietro quel folle gesto, lo schianto dell'Airbus a tre eventi sulle Alpi francesi. Secondo la ragazza Lubitz, quando parlava di lavoro si arrabbiava spesso dicendo di voler fare qualcosa per cambiare completamente quel sistema che lo avrebbe portato alla depressione. Intanto proseguono le ricerche di quel che resta delle 150 persone a bordo. Sono tra i 400 e i 600 gli elementi ancora sotto esame, fanno sapere dalla gendarmeria francese. I medici legali stanno esaminando i resti, bisogna confrontare tutte le informazioni. La procura di Düsseldorf ha trovato nell'appartamento di Lubitz un certificato di malattia per il giorno della tragedia, malattia che l'uomo avrebbe nascosto alla compagnia aerea. I dubbi da chiarire restano ancora molti.